Speciale Festival Show E' arrivata sul nostro track una delle ospiti più attese di questa sera, benvenuta Anna Tatangelo Pronti, belli carichi stasera Senti, un periodo questo di grande carica per te? Beh, devo dire un periodo in cui si gironzola tanto Però sono felice, è uscito questo nuovo singolo e quindi niente, in giro tra disco, promozione e live Stavamo pensando a quanto tempo era passato dall'ultima volta che ci siamo viste e forse un paio d'anni ma non sembra E' vero, sono passati secondo me due anni Io ti trovo sempre in grande forma Ti ricordi che facevo una bella chiacchierata? Sì, sì, ci siamo raccontate un po' di cose tra di noi Soprattutto da mamme, da mamme se non sbaglio Bravissima, mi fa piacere che te lo ricordi Senti, la tua estate anche da mamma come sta andando? Riesci a vedere tuo figlio? Sei troppo presa con la promozione? No, adesso ovviamente con il fatto che non ci sia scuola me lo porto dietro nella maggior parte dei casi Come la vive questa cosa? Che non è un ruolo facile quello di essere figlio di una star Quindi, confusione, l'efforto Di due Eh sì, esatto, e poi, esatto, lui è povero Ovviamente è contento quando comunque il pubblico ci applaude, canta le nostre canzoni Quando qualcuno vuole fare la foto, è ovvio che lì è orgoglioso e dice questa è la mia mamma Quindi anche per me è motivo di orgoglio, no? Ma riesci a rendersi conto dell'impatto che avete tu e Gigi sulle persone? Ma avete piccolino, quindi ancora tante cose non gli vanno nemmeno spiegate, ecco Bisogna dirglielo, senti questa sera porti anche a essere una donna Come mai hai scelto? C'è la musica delle prove Sì c'è una confusione terribile Come mai hai scelto anche essere una donna per il nostro palco questa sera? Ma essere una donna perché comunque è una canzone che negli anni mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora E mi andava di ricantarla e sai a 31 anni, a 30 anni Quando sei veramente una donna rispetto a quando l'ho cantata Che comunque avevo 19 anni Oggi per me ha un altro significato Poi lo canto da donna, da mamma soprattutto E sono felice che comunque sia un pezzo che nonostante tutto siano passati un po' di anni E' un pezzo che comunque le persone cantano E' un pezzo che è rimasto nel cuore di tutti sicuramente Allora un grazie di cuore ad Anna Tatangelo per essere stata qui A stasera, ciao!